In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur, Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Continua la lettura dell'opera Imitazione di Cristo. Libro primo, capo tredicesimo. Del resistere alle tentazioni. Finché viviamo nel mondo, non possiamo essere senza tribolazione e senza tentazione. Perciò sta scritto in Giobbe, tentazione è la vita dell'uomo sopra la terra. Quindi ciascuno dovrebbe essere sollecito intorno alle proprie tentazioni e vegliare nella preghiera, affinché il demonio che mai non dorme, ma gira intorno cercando chi divorare, non trovasse adito per ingannarci. Non va alcuno, sì perfetto e sì santo, il quale talora non abbia tentazioni, ed esserne affatto esenti non possiamo. Le tentazioni però sono spesso assai utili all'uomo, benché moleste e gravi, poiché in esse l'uomo si umilia, si purifica ed impara. Tutti i santi passarono e progredirono attraverso molte tribolazioni e tentazioni, e coloro che non poterono sopportare le tentazioni, vennero meno e diventarono reprovi. Non va a ordine così santo, non luogo così segreto, dove non siano tentazioni o d'avversità. L'uomo finché vive non è interamente sicuro dalle tentazioni, perché nati nella concupiscenza portiamo in noi stessi di che essere tentati. Quando una tentazione o d'una tribolazione si allontana, ne sopravviene un'altra, e sempre avremo qualche cosa da patire, perché abbiamo perduto il bene della nostra felicità. Molti cercano di fuggire le tentazioni, e vi cadono più gravemente. Con la sola fuga non possiamo vincere, ma mediante pazienza e vera umiltà diventiamo più forti di tutti i nemici. Chi schiva soltanto le tentazioni esternamente, e non ne estirpa la radice, farà poco profitto. Anzi, ben tosto, le tentazioni torneranno a lui, e si sentirà peggio di prima. A poco a poco, e con pazienza longanime, vincerai meglio, aiutandoti il Dio, che con la durezza ed inquietudine tua. Chiedi spesso consiglio durante la tentazione, e con chi è tentato non trattar duramente, ma infondigli consolazione, siccome brameresti si facesse con te. Principio d'ogni tentazione è l'incostanza dell'animo e la poca confidenza in Dio. Come la nave senza timone viene sbattuta dai flutti, così l'uomo molle che abbandona il suo proponimento è tentato in vari modi. Il fuoco prova il ferro, e la tentazione l'uomo giusto. Spesso non abbiamo un giusto concetto delle nostre forze, ma la tentazione manifesta quello che siamo. Però bisogna vegliare soprattutto al principio della tentazione, perché allora si vince più facilmente il nemico, se non lo si lascia in verun modo entrare per la porta della mente. Ma appena egli batte, subito se gli esca incontro fuori della soglia, onde altri disse, osta ai principi che il rimedio è tardo. Da prima si affaccia alla mente un semplice pensiero, poi una viva immagine, quindi il diletto, e il moto malvagio, e il consenso. E per tal modo a poco a poco il nemico maligno entra interamente, perché non gli si resiste da principio. E quanto più a lungo altri intorpidisce a resistergli, tanto più debole diventa ogni giorno in sé stesso, e più potente si fa il nemico contro di lui. Alcuni soffrono le tentazioni più gravi al principio di loro conversione, altri in sulfine, ed alcuni sono tribolati per quasi tutta la loro vita. Taluni sono tentati leggermente, secondo la sapienza e l'equità dell'ordinazione divina, la quale pesa lo stato ed i meriti degli uomini, e preordina tutte le cose alla salute dei suoi eletti. Perciò appunto pregare Dio con più gran fervore, affinché in ogni tribolazione si degni di aiutarci Egli, che è giusta il detto di Paolo, ci darà con la tentazione l'aiuto sufficiente per sostenerla. In ogni tentazione e tribolazione umiliamo dunque le anime nostre sotto la mano di Dio, poiché Egli salverà ed esalterà gli umili di spirito. Nelle tentazioni e tribolazioni resta provato quanto l'uomo ha progredito. Quivi il merito è più grande e la virtù più palese. Non è granché se l'uomo è devoto e fervente quando non sente gravezza, ma se nel tempo dell'avversità sopporta se stesso con pazienza, vi sarà speranza di grande progresso. Alcuni resistono nelle grandi tentazioni e sovente restano vinti nelle piccole e quotidiane, affinché, umiliati, mai non confidino in se stessi nelle cose grandi, mentre in cose piccole vengono meno. Laudetur Iesus Christus In nomine Patris e Filii e Spiritus Santi. Amen.